Il settore audiovisivo può essere un volano per la crescita economica di Roma e del Lazio, è uno degli spunti arrivati dall'appuntamento di Manager Italia sul futuro della Capitale. Ci sono delle opportunità enormi che abbiamo davanti, a cominciare dai fondi del PNRR, il giubileo del 2025, la candidatura molto possibile, incrociando le dita all'Expo 2030, quindi abbiamo davanti delle occasioni importantissime per il rilancio della città. Per quanto riguarda l'audiovisivo, si è fatto molto in questi anni, in questo periodo, anche nel periodo difficile della pandemia, ma sicuramente si può fare ancora di più. Nel panorama dell'industria audiovisiva, che vale più di 1 miliardo e 200 milioni a livello nazionale, il Lazio e Roma, chiaramente in particolare, occupano una posizione di grande rilievo, perché hanno il 30% delle aziende e il 40% degli addetti. Grazie alle opportunità che si possono creare in questi prossimi mesi, in questi prossimi anni, l'industria dell'audiovisivo può crescere ulteriormente, quindi tutte queste opportunità vanno colte.